Ciao ragazze, allora questa sera vi presento un altro gioco che è consigliato per i bambini di 3 anni ma io penso anche quelli un pochino più piccoli che però amano i puzzle e hanno la passione per i puzzle anche perché penso che se uno ha la passione poi è incentivato a farne di puzzle e quindi diventa anche un pochino più esperto rispetto a un bambino che non li fa i puzzle come tante altre cose allora questo è un gioco dove devo creare il mio percorso delle macchinine e lo posso creare come voglio attraverso appunto questi pezzi che sono appunto pezzi di puzzle che io vado a incastrare e poi ci gioco con le macchinine vedete poi ci sono già il semaforo, ci sono i cartelli stradali e posso creare numerosi tipi di percorso qui ad esempio ne fanno vedere alcuni che sono questi, ci sono tutti proprio dei veri e propri circuiti ecco ci sono in totale 21 pezzi, sono pezzi come vedete grandi in cartone spesso e insomma a me piaceva molto come idea ecco perché è un regalo particolare insomma io adesso penso sono già proiettata Natale Santa Lucia ma anche il compleanno è un regalo un po' particolare, un po' nuovo, un po' diverso che unisce il fatto di pensare e strolicare un po' di come costruire, come fare il puzzle e allo stesso modo anche lo faccio per qualcosa, non è solo il quadretto lì tutto bello che poi lo smonto ma è un percorso che poi utilizzo in un secondo momento o anche subito dopo che l'ho fatto proprio per giocarci e far andare le mie macchinine in aggiunta a questo c'è anche, ci sono anche volendo i cartelli stradali che ora prendo eccoli qua, allora non sto lì ad aprirli tutti, come vedete sono tutti insacchettati uno a uno sono cartelli stradali veri e propri in legno e così si possono utilizzare per rendere più realistico il percorso che i nostri bimbi hanno creato con il puzzle ma anche per cominciare, adesso non a tre anni chiaramente sono piccolini però cominciare anche ad insegnargli qualche cartello stradale a riconoscere qualche segnale eccetera quando sono un pochino più grandini questo chiaramente quando sono così piccoli si può utilizzare per insegnargli i colori al massimo insomma però a tre anni magari già li riconoscono non lo so perché no, si potrebbe anche fare un tentativo ad ogni modo ecco, questi sono secondo me un'idea carina, simpatica per così avere un'attività in casa nuova che unisce sì il gioco con le macchinine che è sempre molto bello, molto istruttivo, molto creativo e anche qualcosa che li faccia concentrare e per creare appunto un puzzle e un percorso anche tutte le volte diverso quindi si aggiunge anche un tocco di creatività perché è possibile appunto creare varie forme del percorso bene, questo era il gioco di oggi, il consiglio giocoso di oggi io vi saluto e ci sentiamo domani per un nuovo gioco ciao, buona serata